piastrelle con la vala mario mario è un intervisto stasera veniamo al gioia caporizzi offrirà la prima bottiglia e poi vediamo il proseguo il problema sta nel vediamo vediamo di andarci ma come funziona dopo la prima bottiglia fate dopo la prima bottiglia una alla volta dopo la prima bottiglia il mangio e fuggi vediamo di andarci una alla volta sfida va bene zio ma allora ti aspettiamo disse cristiano roma ma siamo fortissimo va bene ti attendiamo allora va bene parola parola bene questa vediamo se una piastrella con la fuga senza è questa è quella grande 80 80